Musica Duello comune e regione, il governo basta liti a margine della verifica sui patti per la campagna il ministro De Vincenti invita De Magistris e De Luca alla collaborazione ma le distanze restano e il sindaco rifiuta l'invito a partecipare alla cabina di regia su Bagnoli Luci rosse perquisite le case di due preti dopo lo scandalo che ha travolto la curia napoletana sui presunti festini ardomosessuali ieri la guardia di finanza ha effettuato tre perquisizioni nelle case dei prelati sequestrati pc, tablet e cellulari tra Pizzo Falcone, Pianura e Santa Maria degli Angeli Pompei ricorso al TAR contro la tassa sui bus Confessor Centi Campania ha presentato un'istanza per l'annullamento del nuovo balzello di 80 euro che dal primo maggio i pullman turistici dovranno pagare per entrare nella città degli scavi Preso il bassista e caccia i killer sono ancora in fuga gli autori materiali del delitto di Michele Tornatore il 64enne di Contrada ritrovato carbonizzato nella sua auto i carabinieri di Avellino hanno arrestato un 54enne ma si cercano almeno altre due persone Minacciato di morte per quella locandina Ad Otto Channel parla l'organizzatore dell'ultima cena gay che dice vittima di una discriminazione a Salerno c'è tanta omofobia mia madre ha paura, ciò che è accaduto non è un bel segnale per la nostra città Ludopatie e le Iene a Benevento gli inviati della popolare trasmissione tv in onda su Italia 1 in città dopo l'inaugurazione di una sala slot nonostante l'impegno del comune a contrastare le ludopatie ma il sindaco Mastella non ci sta e repliche alle accuse Buongiorno, ben ritrovati con la nostra informazione in apertura c'è la visita del ministro De Vincenti a Napoli Comune e Regione devono dialogare nell'interesse dei cittadini mettendo da parte diatribe istituzionali senza senso il ministro del Mezzogiorno, Stria, De Magistris e De Luca e la fascia tricolore snobba l'invito a partecipare alla cabina di regia su Bagnoli vediamo Superare le diatribe istituzionali e lavorare per portare a casa risultati concreti e nell'interesse dei cittadini il ministro per la coesione territoriale Claudio De Vincenti striglia comune di Napoli e Regione Campania protagonisti di un aspro braccio di ferro che va avanti da mesi sul patto per la Campania il responsabile del di Castero per il Mezzogiorno ha detto a chiare lettere che non è più tempo di sterili polemiche ma di affrontare i problemi della collettività con un inciso non è compito del governo risolvere i problemi tra comune e regione del resto la partita è troppo importante visto che si parla di risorse complessive per 9 miliardi 4 quelli già stanziati di cui 3 appannaggio esclusivo della città di Napoli ed altri 5 in direttura d'arrivo ma senza una chiara sinergia istituzionale non si va da nessuna parte questo il monito del ministro De Vincenti che ha spierzato De Luca e De Magistris appello che però sembra sia caduto nel vuoto al di là delle generiche dichiarazioni di circostanza da parte degli addetti ai lavori che la cooperazione istituzionale è assolutamente fondamentale e quindi abbiamo dimostrato che quando ci si riunisce attorno a un tavolo ci sono progetti seri, un metodo di lavoro serio, credibilità hanno mantenuto sinora gli impegni che si erano presi il primo cittadino del capoluogo infatti ha declinato l'invito del ministro a partecipare alla cabina di regia su Bagnoli il lavoro del commissario Eddin Vitali sta andando avanti e sottolineato De Vincenti tanto che è già stata avviata la rimozione dell'amianto e rinnovo l'invito a De Magistris a partecipare alla cabina di regia parole però cadute nel vuoto dal momento che l'inquilino di piazza Municipio ha sottolineato come la cooperazione sia importante ma allo stesso tempo ha detto no all'intesa su Bagnoli e adesso parliamo dello scandalo che ha travolto la curia napoletana quella dei presunti festini ardomosessuali e ieri la guardia di finanza ha effettuato tre perquisizioni nelle case dei prelati tra Pizzo Falcone, Pianura e Santa Maria degli Angeli sono stati sequestrati pc, tablet e cellulare il servizio di Simonetta I e Pariello perquisizioni nel giovedì santo nelle case dei preti a Napoli almeno tra i blitz della Guardia di Finanza nell'ambito dell'inchiesta sui festini e luci rossi organizzati da alcuni sacerdoti con giovani compiacenti che offrivano corpo e prestazioni per danaro tutto era partito da quel dossier consegnato in forma anonima a Monsignor Lucio Lemmo e affidata da gennaio al sostituto procuratore della Repubblica di Napoli, Clelia Mancuso i militari hanno bussato prima alla porta dell'abitazione di Don Mario il parroco della chiesa di Santa Maria degli Angeli il prelato è attualmente sospeso fino a quando il tribunale ecclesiastico non avrà ultimato le sue indagini poi i militari delle Fiamme Gialle hanno bussato alla porta di un altro perete padre Giovanni Varriale nel quartiere di Pianura il blitz poi si è spostato nell'ufficio della chiesa di Pizzo Falcone nello studio dell'ex parroco sono stati sequestrati cellulari, computer, tablet i prelati attualmente non risultano iscritti nel registro degli indagati e le indagini vanno avanti nel riservo più totale poi il doppio blitz di qualche settimana fa prima in Curia a Largodonna Regina e poi a Pozzuoli nell'ufficio diocesano del vescovo Monsignor Gennaro Pascarella qui i militari avevano raccolto informazioni anche sulla posizione di altri sacerdoti un paio in particolare protagonisti di un secondo dossier consegnato in procura dall'associazione METER, la ONLUS fondata da Don Fortunato di Noto a difesa dei diritti dell'infanzia e contro la pedofilia intanto nei giorni scorsi si è tenuto il primo interrogatorio ufficiale di Don Mario d'Orlando le indagini vanno avanti e nessuna indiscrezione trapela Sarebbe stato ferito a forcella da uno sconosciuto che avrebbe aperto il fuoco in piazza senza motivo è la versione dai molti aspetti oscuri e su cui sono in corso le indagini fornita da un giovane di 16 anni che intorno alle 2.30 della notte scorsa è arrivato all'ospedale Loreto Mare il ragazzo raggiunto da una pallottola al polso ha rifiutato il ricovero ed è stato dimesso, riaffidato alla madre con una prognosi di 21 giorni sull'accaduto, stanno effettuando gli accertamenti gli agenti del commissariato vicario della polizia di Stato che stanno ricostruendo la dinamica dell'accaduto Una tassa di 80 euro per tutti gli autobus turistici che entrano a Pompei Confesercenti non ci sta e ricorre al TAR per l'annullamento del nuovo balzello Rocco, fatti bene Un ticket ingiusto che non tutela i commercianti Confesercenti Campania ha presentato ricorso al TAR contro la tassa di 80 euro applicata a tutti i bus turistici che transitano a Pompei Un nuovo balzello entrato in vigore in via sperimentale il primo marzo scorso e che dal prossimo primo maggio non ammetterà più alcuna deroga Presentata dall'avvocato Paolo Leone l'istanza di Confesercenti chiama in causa il Comune il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la società Publi Parking L'obiettivo? Annullare la delibera comunale del 3 febbraio a firma del commissario prefettizio di Pompei Maria Luisa D'Alessandro con la quale è stata prevista la modifica della ZTL gialla Ci siamo ribellati verso questa iniziativa, questo nuovo balzello, questa nuova tassa è stato introdotto all'improvviso, a stagione turistica già inoltrata quindi ha messo in difficoltà tutti noi che avevamo già stipulato degli accordi dei contratti, avevamo già definito dei prezzi quindi all'improvviso ci si ritrova con un balzello di 80 euro a fronte dei quali i visitatori non ricevono alcun servizio Oltre alle prenotazioni saltate e ai conseguenti danni economici Confesercenti lamenta la mancanza di concertazione nelle scelte legate ai flussi turistici Il turismo vive di collaborazione, di sinergie, dell'accordo fra tutte le parti Non può un'amministrazione comunale una mattina svegliarsi di sua iniziativa violando a nostro avviso le procedure e la trasparenza imporre un balzello che ci sta mettendo in grossa difficoltà Abbiamo molte defezioni che vanno verso altre località e stanno evitando Pompei Sequestrato un magazzino del falso alla duchesca nel cuore di Napoli i carabinieri hanno denunciato per violazione di sigilli e ricettazione un 38enne del luogo, già noto alle forze dell'ordine Durante la perquisizione in un garage nella sua disponibilità che era già stato sequestrato per contraffazione di marchi è stato nuovamente trovato in possesso di materiale illegale 719 pezzi tra capi di abbigliamento, vestiti e scarpe con i marchi falsi delle più note griffe nazionali e internazionali Omicidio di Contrada Si cercano ancora gli assassini di Michele Tornatore il 64enne ritrovato carbonizzato nella sua auto i carabinieri di Avellino hanno arrestato il basista ma i killer sono ancora in fuga Intanto si attende la liberazione della Salma Vediamo Se il basista resta in carcere gli altri complici sono ancora latitanti Ancora mistero sull'omicidio di Michele Tornatore il 64enne di Contrada ritrovato carbonizzato nel cofano della sua auto Gli investigatori a distanza di 48 ore dalla scoperta del cadavere hanno arrestato Francesco Vietri di Montoro ritenuto il basista A lui i militari del nucleo investigativo di Avellino coordinati dalla DDA di Napoli sono arrivati grazie al sistema GPS installato sull'auto della vittima Dai rilevamenti satellitari è emerso che la macchina di Tornatore è rimasta parcheggiata per 10 ore davanti a un capannone nella frazione di Banzano di Montoro di proprietà di Vietri Molto probabilmente si cerca di capire se il 64enne sia stato ucciso nel garage e poi trasferito nel bosco di Contrada Una ipotesi fatta per la lunga sosta della Nissan a Montoro L'uomo proprio quella sera doveva rientrare nel carcere di Bellizzi dove era detenuto il regime di semilibertà per furto Ma nel penitenziario non è mai più rientrato Secondo la procura della DDA Tornatore sarebbe stato ucciso per un debito non saldato ma con chi e per quale motivo Intanto se in carcere c'è il basista l'autore o gli autori materiali del delitto sono ancora in fuga e non sono del posto A Contrada c'è ancora tanto sconcerto soprattutto per le modalità mafiose con cui è stato commesso l'omicidio Nelle prossime ore la procura dovrà liberare la salma per restituirla ai familiari e consentire di poter procedere con i funerali Un flusso di scommesse anomalo nella zona flegrea e nel centro di Napoli con vincite record garantite dalle puntate sul successo dell'Ancona a Parma Un articolo del mattino ha aperto un autentico caso generando la reazione stizzita del club Ducale il servizio di Marco Festa Un flusso anomalo di puntate nella zona flegrea e nel centro di Napoli sulla vittoria per 2 a 0 dell'Ancona ultimo in classifica nel girone B di Lega Pro al Tardini contro il Parma Ducali secondi in classifica un risultato tutt'altro che scontato e dunque quotato in maniera ovviamente alta tanto da garantire vincite moltiplicate tra 65 e 130 volte la posta investita Il gol nel recupero di Del Sante secondo quanto riferito da Il Mattino è valso un numero consistente di incassi tra i 100.000 e 225.000 euro a testa in estrema sintesi troppe coincidenze per non suscitare dubbi e il caso è ufficialmente esploso determinando innanzitutto la reazione stizzita del Parma Calcio 1913 che con un comunicato ufficiale ha espresso testualmente profondo stupore e totale disgusto in merito all'articolo pubblicato ieri dal quotidiano Il Mattino di Napoli attraverso il quale si adombrerebbe senza mezzi termini l'insopportabile sospetto di una combine relativa alla partita Parma-Ancona non si è fatta attendere nemmeno la reazione dei giocatori biancoscudati compatti in conferenza stampa a respingere ogni accusa e a chiedere per primi chiarezza circa la vicenda attraverso le parole del capitano Alessandro Lucarelli visibilmente contrariato Te mi accusi di essere venuto la partita e mi porti no te e mi porti le prove e mi porti le prove non dici c'è stato 7 persone che hanno scommesso 1.000 euro nell'anno di 5 giorni sono 200 ok c'è stato dei flussi anomali che hanno scommesso vogliamo sapere anche noi cosa c'è stato un anomalo 22.000 dosi di eroina e cobret nascoste in cantina è quanto hanno scoperto i carabinieri di Castello di Cisterna Piscino la quartiere della periferia di Napoli il maxiquantitativo di droga a 22 kg è stato trovato nella cantina del 44enne Salvatore Sarnelli di Piscino la già noto alle forze dell'ordine è arrestato ora per detenzione di stupefacenti ai fini dello spaccio hanno minacciato mia madre di bruciarmi vivo ad Otto Channel parla l'organizzatore della contestata manifestazione presentata con una locandina gay giudicata blasfema a Salerno c'è ancora tanta omofobia le sue parole ieri la serata al caffè verdi blindato e con un blitz di Forza Nuova Giovan Battista Lanzilli una volante della polizia all'esterno del locale ha controllato che tutto filasse liscio senza incidenti e a parte un passaggio di alcuni militanti di Forza Nuova che hanno lanciato da un'auto in corsa dei volantini con su scritto mettiti lo squarn al caffè verdi si è svolta la serata presentata con la contestatissima locandina dell'ultima cena gay dopo il clamore mediatico e i commenti la manifestazione Emanuele Avagliano che racconta delle minacce di morte e del clima di intolleranza che pervade la città di Salerno non mi aspettavo questa reazione questo clamore e soprattutto non mi aspettavo questa risonanza a migliare io ho ribadito e lo dirò fino alla fine con gran voce con gran forza la mia formazione di fede cattolica e insomma essere stato educato veramente nella fede cattolica col tempo ho iniziato a distaccare la mia vita privata dalla fede visto che forse un po' non compagiavano ma ho sempre continuato ad essere un praticante da venire a messa a distruttare come noi anche a distruttare a fare tutte le cose che trovo un cristiano pur sapendo di essere comunque omosessuale il problema è che poi a un certo punto dalle polemiche verbali si è passato anche alle minacce esatto si è passati a offese a minacce minacce anche di morte tanto in minacce cattive di morte l'ultima l'ha ricevuta mia madre aveva scritto bruseremo tuo figlio vivo a troia di merda una cosa del genere vedevo che fossimo in una città un po' più aperta sono sette anni che organizzano indica e solo dopo sette anni mi sono accorto che c'è ancora tanta ma tanta omofobia e torna la ribalta a Benevento la vicenda che vede protagonista il sindaco Mastella Reo di aver inaugurato una sala slot in città nonostante l'intenzione dell'amministrazione di contrastare il dilagare delle ludopatie questa mattina nel capoluogo Sannita sono arrivate le telecamere delle Iene ma ascoltiamo il servizio di Alessandro Fallarino che ha poi intervistato il sindaco Clemente Mastella l'inaugurazione di una sala slot che per la cronaca è anche rivendita di articoli da cartoleria punto telematico per pagare bollettine ed effettuare ticket al centro di un servizio delle Iene la trasmissione di Mediaset questa mattina l'inmiato Filippo Roma e un cameraman hanno raggiunto Benevento per girare il servizio che vendrà in onda nei prossimi giorni la truppe delle Iene ha fatto tappa presso la sede del comune a Palazzo Musti ed ha intervistato Clemente Mastella successivamente si sono spostati nella parrocchia dove esercita il parroco che in quell'occasione aveva benedetto l'attività commerciale il sindaco prima del consiglio comunale in programma per questa mattina in merito alla presenza delle Iene ha ribadito ancora una volta essendo da inaugurare una realtà sono stato 5 minuti non saperebbe neppure che ci fosse là dentro il gioco perché la lavagnetta era stata fornita dava l'immagine che là c'era ticket per quando guardavi i biglietti e il calcio poi dopo di che dentro non sono andato neanche dentro sono stati 5 minuti e il sacerdote che abbiamo benedetto che avessimo avuto questa contezza forse lo avremmo fatto certamente che in altri casi non l'ho fatto tocca al governo stabilire con norma di evitare che ci siano questi luoghi dove si va a giocare perché ogni volta che i comuni hanno determinato una localizzazione diversa perlomeno e tenuti il tar a favore dei colori quali sono proprietari dei giochi una truffa ben architettata quella portata alla luce dalla polizia di Ariano Irpino questa volta ai danni della congregazione suore dello spirito santo che da anni gestisce nel cuore della città pochi passi da piazza plebiscito una scuola paritaria in azione un sedicente funzionario del ministero dell'istruzione che dopo aver riferito alla superiore che l'istituto aveva ricevuto per errore contributi pubblici superiori al dovuto con l'inganno l'aveva convinta a pagare 3.500 euro l'attività investigativa svolta nell'immediatezza ha consentito di individuare denunciare un 33enne torinese che ora dovrà rispondere di truffa aggravata colpiremo i clan questa la priorità del nuovo procuratore capo del tribunale di Nocera Inferiore Antonio Centore che si è appena insediato Centore prende il posto di Amedeo Sessa che ha retto la struttura giudiziaria a Nocerina negli ultimi mesi linea dura nei confronti dei clan e della Camorra questo è il primo messaggio che ha voluto dare il nuovo procuratore capo del tribunale di Nocera Inferiore Antonio Centore insediatosi ieri Centore non si è perso in chiacchiere sono venuto a Nocera spesso in passato per processi contro la criminalità organizzata puntualizzato credo che sia proprio l'aggressione ai loro patrimoni la nuova frontiera del diritto penale per i criminali infatti non c'è nulla di peggio che perdere il frutto del loro lavoro ha continuato Centore se gli togliamo il frutto di tutto ciò gli facciamo male il più possibile certo un incarico importante e impegnativo quello che aspetta il neoprocuratore vista la mole di lavoro che ruota intorno alla procura di Nocera Inferiore i carichi di lavoro sono sproporzionati rispetto all'organico ha commentato Centore è giusto che ci siano dei criteri di priorità nel lavoro dei fascicoli ma la domanda di giustizia è per tutti nell'agronocerino ancora di più la lotta non è solo contro la criminalità organizzata lavoriamo insieme a una gestione condivisa dove tutti devono avere voce in capitole le parole del nuovo procuratore Centore prende il posto di Amedeo Sessa che ha retto la struttura giudiziaria Nocerina negli ultimi mesi ora andiamo ad Avellino approvato dai sindaci il bilancio di esercizio 2016 dell'alto calore ora per il presidente De Stefano il futuro si chiama contratto di idee con il 94,7 dei votanti è stato approvato dall'assemblea il bilancio di esercizio 2016 di alto calore lente idrico che serve 127 comuni tra Irpini e Sagno soddisfatto il presidente Lello De Stefano non nascondiamo l'esposizione debitoria ma è stato avviato un percorso di risanamento è pesante la situazione di alto calore quindi quelli che pensano che sull'alto calore si può fare polemica politica hanno proprio sbagliato indirizzo perché qui c'è solo sacrificio da fare e noi lo stiamo facendo anche diciamo quando a volte verrebbe voglia di andare via domani mattina ora riflettori puntati sull'aggregazione con Gesesa e Ato per il gestore unico noi abbiamo su richiesta dell'Ato e con la grande considerazione delle potenzialità che vengono dal contratto di rete un'ulteriore prospettiva di continuità aziendale fermo restando che la decisione tocca a lei che all'ente idrico campano noi difenderemo la nostra preeminenza territoriale quindi il contratto di rete è uno strumento ma ovviamente tutti dovranno tenere presente che Ato Calore Servizi è la più importante azienda che è presente sull'ambito distrettuale 1 il sindaco di Montoro Mario Bianchino elogia il lavoro di De Stefano e indica la strada per mantenere la gestione pubblica dell'acqua la sua è stata una gestione che posso tranquillamente definire eccellente non ha travasciato alcunché si è fatto carico di situazioni difficili complesse che andavano affrontate e oggi credo che con il sostegno dei sindaci anche per quanto riguarda la prospettiva si sta lavorando per costruire un futuro possibile per le nostre realtà cioè per fare in modo che la gestione delle acque possa rimanere patrimonio delle comunità dopo le proteste di ieri per una maggiore disponibilità degli spazi sociali nella Spina Verde la strada del dialogo sembra funzionare Maria Teresa De Lucia Massima apertura è un impegno alla disponibilità e alla collaborazione il direttore del conservatorio Nicola Sala di Benevento Giuseppe Ilario ha incontrato i rappresentanti delle associazioni del rione Libertà si cerca dunque un accordo dopo le proteste che avevano portato all'occupazione del conservatorio è un gesto simbolico per richiamare l'attenzione sulla necessità di un dialogo con le istituzioni per gli spazi sociali per l'auditorium della Spina Verde ha spiegato Ilario mancano ancora l'agibilità e l'accatastamento solo dopo il conservatorio prenderà in carica la struttura e la gestione sarà comunque condivisa con il comune quando tutti gli esprimamenti saranno pronti all'interno della Spina Verde noi siamo disponibili ad ascoltare tutte le associazioni ed è giusto che ascoltiamo tutte le associazioni del territorio come si intendeva con i tre ragazzi delle associazioni che sono venute stamattina che hanno chiesto l'incontro al conservatorio di programmare qualche attività al di fuori della Spina Verde lo possiamo fare già da ora per una struttura del genere la condivisione con i cittadini ci sembra inevitabile così invece il presidente dell'associazione Io per Benevento ci dispiace che questo elemento al comune sfugge perché tenta in qualche modo in tutti i modi di imporre delle scelte che non vengono mai condivise con i cittadini il primo aspetto è dare a quelle strutture un carattere sociale una destinazione sociale e una promozione culturale che al nostro territorio è quello che serve Salerno si scopre meno virtuosa per la raccolta differenziata i dati parlano di percentuali in calo rispetto agli anni scorsi abbiamo ascoltato i cittadini sull'argomento che hanno mostrato pareri contrastanti Massimiliano Grimaldi Salerno si scopre meno brava nell'effettuare la raccolta differenziata i dati emersi infatti parlano di percentuali in calo rispetto agli anni precedenti ed è per questo motivo che il comune si è subito attivato presentando ieri a Palazzo di Città la nuova campagna di sensibilizzazione per incentivare la raccolta differenziata sul territorio pareri contrastanti tra i cittadini che evidenziano le problematiche legate al sistema di raccolta io la faccio la differenziale e tengo il rispetto perisseguamente quella che è l'organizzazione certamente la civiltà degli altri non so cosa ci comporta la raccolta differenziale sta andando bene per le famiglie per i fabbricati ma non va bene assolutamente per i locali i locali notturni i bar per me va bene non si discute proprio però dovrebbero anche modificare la raccolta della differenziata per i locali notturni purtroppo vedo e noto che abbiamo fatto un passo indietro rispetto agli anni passati dove effettivamente la provincia di Salerno e non solo Salerno appunto era diciamo tra quelle più virtuose per quanto riguarda il sistema raccolta differenziata la terra non ne può più non solamente i cittadini e chi vive le città l'unica cosa che non mi va è solamente la raccolta del vetro perché quelle campane sono insufficiente in alcuni posti inutili in altri posti ed ora parliamo del dramma casa buone notizie per Pasqua ad Ariano Iarpino il comune assegna gli alloggi gli assegnatari convocati a palazzo di città si avvia a conclusione un lungo e tormentato capitolo Gianni Vigo Eroso eccoli gli alloggi che presto andranno ad ospitare famiglie da anni in attesa di una vera casa siamo a Dariano Iarpino zona Borgo San Domenico il progetto di riqualificazione urbana ed edilizia residenziale viaggia a Braccetto con il contratto di quartiere martiri la lieta notizia è arrivata nella settimana santa che precede la Pasqua alla luce della graduatoria definitiva il dirigente dell'area tecnica Fernando Capone ha chiesto attraverso una lettera inviata alle persone interessate i primi 20 assegnatari di presentarsi negli uffici di via tribunali per la scelta dell'alloggio da assegnare richiesta inoltre sempre da parte del comune la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà e una serie di documentazioni tra cui l'attestazione ISEE in originale riferita ai redditi dell'anno 2016 completa della dichiarazione sostitutiva unica finalizzata alla stipula del contratto di locazione il 16 marzo scorso nel corso di un colloquio pacifico e sereno l'assessore Raffaele Lipizzi che sta seguendo con attenzione questa emergenza tra non poche difficoltà aveva annunciato a breve la conclusione dell'iter procedurale e così è stato la verifica dei dati relativa ad ogni singola persona presente nella graduatoria ha richiesto tempi notevoli ma ora sembra che davvero la tanto attesa parola fine sia arrivata la liturgia in cena a Domini al Duomo di Napoli quest'anno ha avuto un tema particolare la disabilità il cardinale Crescenzio Seppe ha lavato i piedi ad un folto gruppo di persone disabili vediamo una lavanda dei piedi molto particolare a Napoli quest'anno la liturgia in cena a Domini al Duomo è stata dedicata alle persone con disabilità il cardinale Crescenzio Seppe durante la cerimonia ha lavato i piedi a un folto gruppo di disabili accorsi da ogni parte una cerimonia religiosa particolarmente toccante che si ripete da oltre 2000 anni e che non smette di avere grandi attualità come spiega il cardinale quello che ha fatto Cristo e ha detto di fare anche a noi praticamente è una realtà che constatiamo oggi quello che ha fatto Cristo e ha detto di fare anche noi praticamente è una realtà che constatiamo oggi direi che più passa il tempo e più sentiamo l'esigenza di chinarci di ginocchiarci di fronte a queste situazioni anche delicate ma che richiedono una nostra partecipazione appunto per assomigliare Cristo e continuare a fare quello che lui ha fatto e il Tg termina qui grazie di averci seguito vi lascio alle previsioni meteo grazie a tutti Grazie a tutti.